Io credo che in questo momento la cosa importante, al di là del sistema, è gli uomini che vanno in campo. Io ho cercato molto di lavorare su questo questa settimana. Quindi è chiaro che, lo sapete, per tanti motivi io credo che lì davanti noi dobbiamo fare una partita importante sotto tutti i profili, sia nella fase di possesso che non possesso. Quindi mi aspetto molto, anche dal reparto avanzato, principalmente nell'approccio e nell'atteggiamento. Sono le partite belle, ma non perché c'è la mia ex squadra che ho già, penso, speso molte parole. È inutile anche ripetermi, quindi sarà il piacere di rivedere anche alcuni ragazzi. Però il mio stato d'animo è di uno che sta cercando di dare la giusta carica ai miei giocatori per affrontare questa partita senza paura, con grande coraggio. Io Lanciano è una squadra solida, la squadra che ha perso meno in questo campionato, se non mi sbaglio. Quindi mi aspetto la squadra che ha dimostrato in questo momento di fare un campionato importante. Ma principalmente ritorno indietro di qualche concetto, di qualche parola. L'importante è non tanto guardare cosa farà l'avversario, perché so che metterà tutto in campo per fare una partita importante. È quello che noi dobbiamo fare. Non sbagliare assolutamente l'atteggiamento alla gara, la convinzione di affrontare questa gara in casa nostra, davanti al nostro pubblico. Quindi questo non dobbiamo assolutamente sbagliarlo.